Ma te ti ricordi di quella volta che mi son dimenticato come si respira? Che assurdo Oh, allora, iniziamo a fare ste farm Che siamo indietro di cibo E dobbiamo farle Bella, automatica Oddio, quant'è piccoli... No, vabbè, è piccolissimo Ma che cacchio Cioè, tipo... È un gattino nano Sì Vabbè, andiamo a farmeggiare, va là Andiamo a farmici Secchi Dove le facciamo? Spacchiamo tutto E poi... Ah, dobbiamo prendere il grano che imbecilli Quindi in questo episodio facciamo la farm di grano di sicuro 100% Automatica E poi... Ah, l'acqua! Ah, l'acqua! E poi dobbiamo fare anche... Boh, magari qualche altra patate, carote Quelle minchiatine lì E basta Quelle che ci vogliamo Allora, dobbiamo fare lunghezza 5 Quindi, a me la pola 1, 2, 3, 4, 5 Larghezza 3, mi sembra Avevo scritto qua 5 per 3, sì 3 Quindi tech E profondo 2 Quindi, in realtà è piccolino, però Cioè, volendone possiamo fare... È molto piccola Sì, sì, certo, certo Però volendone possiamo fare tipo 2, 3 Eh, no, ma c'è un villager! Basta, morirà Lui ormai fa parte della farm di grano Eh, slamalo, slamalo Sì, sì, slamalo Ora, in teoria, prendiamo i pistoni quelli belli appiccicosi Eschi, eschi da lì, signor Albano Dobbiamo mettere i pistoni appiccicosi così Tech, tech, guarda che parkour Madonna, madonna, sono un fenomeno! Ok Ok Eh, però è lungo 6 Mingo, manco la matematica Mingo, manco la matematica Ora, e in teoria dobbiamo... E anche in pratica dobbiamo mettere i ripetitorzi Qua Tech Tech Ma è lungo 4 Mingo, manco la matematica Che imbecilli! I ripetitori lì così E dietro la redstone Perfetto, che ho preso Te controlla che faccio tutto giusto Che si accipica tutto Ok Ok Ho neppero fecondato un po' Ha fecondato? Sì Che schifo! No, che animali, che animali Allora, dobbiamo mettere gli slab Devo prendere altri slab dopo Con la lastra di pietro levigata E anzi, facciamo salire qui Tech E mettiamo qua gli slab vega Quindi avanziamo di uno Dobbiamo chiudere il tutto sostanzialmente Quindi prendiamo altri slab Chiudiamo E poi mettiamo l'acqua Ora facciamo il tagliettino Così esce tutto giusto Allora Che cacchio è successo? Mi sono distratto un attimo Ah, ok Allora, abbiamo fatto sta roba Praticamente bisogna mettere l'acqua E noi gli slab Perché passa attraverso Come abbiamo notato Se è stati mezz'ora a perdere tempo Quindi mettete sotto dei blocchi Qualsiasi blocchi vogliate E avanziamo di Quanto hai detto? Di 8? 8, 8 Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, no Dall'acqua 8 E quindi 7 Questo toglie Scommessa? Scommasser? Scommasser! Ok, hai vinto Va bene, hai vinto Ok, non la... Basta Poi qua Dato che questo è la fine A parte che abbiamo la farm Che si blocca in metà villaggio Cioè abbiamo un po' rovinato Ma vabbè, fa niente Lasciamo perdere Quindi qua si fa il coso Quindi io direi di ampliare ancora di uno Perché qua mettiamo i vari hopper Che non abbiamo preso Vabbè, i dettagli Ok Allora E ho fatto 6 tramoggi Quante ne servivano? 5 Mi sa che non ho fatto ne in più Va bene, va bene Vabbè Nel dubbio Ah, dobbiamo fare anche le ceste Fima Siamo due idioti Intanto lei parli Eh, allora aspetta Lei facci, lei facci Io Dove sono le ceste che abbiamo abbandonato qui? Perché sì Mi ricordo che c'erano due ceste abbandonate Le abbiamo rotte Le abbiamo rotte Quindi le abbiamo portate dentro Prendo le ceste Così possiamo mettere Dai, dimmi che ci sono Ti prego Ma le non le trovo No Ah, proprio le avevamo portate dentro In quel senso Ah Ho capito Allora, io intanto Ho messo i hopper Tu hai messo quella Perfetto Se tutto quello che abbiamo fatto È giusto Apri l'acqua Così si irriga il terreno Allora Aspetta, aspetta No Mi stai irrigando Ok E' a posto Quindi Ah, potremmo prendere del bombia Per vedere com'è Però qui Dove sei tu Facciamoci un po' qua Per prendere le ceste Esatto Facciamo un paio di distanza Qua Tech Ok, mi sa che abbiamo sbagliato qualcosa Ok, quindi questo A posto E le ceste qua Quindi ora dovremmo fare un test Vado a prendere il bombia Lo ce l'hai già dietro Dai, dimmi che Non ce lo ha Quindi prendiamo Ce l'avremo del bombia Sì Per forza Sì Ovvio Azioni 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 Vediamo se funziona Se sono stati bravi Ok In teoria va tutto nell'hopper Vabbè questo non è caduto Lo rubo io Poi noi scendiamo qui I gnari di ciò che possiamo trovare E sbam Guardate come esce Che bene Che bene Si è spezzato le gambe Però che bene dai Per ora Quindi riprendiamo i semini No ce li ho già Però ne prendo altri Ok E piantiamo E basta E' fatta la farma automatica Si è fatta sera Si è fatta sera Si è fatta una certa E quindi No Non devi camminare sopra No No I miei semini Andiamo a dormire Perché sinceramente Non vorrei farlo di notte Roba strane Poi sai come va a finire Sta sedia Succede sempre di tutto Bene Mettiamo via qua Il maialino c'è ancora Fatemi dare un'occhiata Il porcialo Sì c'è ancora Venghi venghi nel letto Frase molto ambigua Farm fatta L'unica cosa Che un po' mi Gne E in mezzo alle palle Cioè te la butto lì Proprio E in mezzo a tutto Cioè Tu che l'hai voluto far qui Ehm Ho sbagliato Cioè uno cammina E si trova una farm E poi un mega buco Va beh Ok Lo accettiamo Lo accettiamo Sì diciamo che dobbiamo Dobbiamo Dovremmo spostare Sì esatto Le prossime le spostiamo La nostra residenza Esatto esatto Ecco tra l'altro Nel prossimo episodio Potremmo fare una residenza Adesso cosa facciamo Questi ultimi Tra quattro minuti Io direi di fare Quello Degli incantesimi C'è un bel Spazzetto Qua qua Il municipio Di fronte al municipio Ok Questo qui è il municipio No L'abbiamo appena inventato Sì ok Da ora il municipio Oddio c'è un buio village Allora Ne ho fatte Non so quante ne servono Ne ho fatte 21 Credo che siano troppe Mi sa che Abbiamo esagerato Vediamo Dov'è che lo vuoi mettere? Il centro Questo sarà il nostro centro E in teoria dovrebbe essere Una roba del genere Se non sbaglio Poi vediamo se faccio bene Sempre che me le carica Quindi tech Mettiamo qua Mettiamo qua Esatto 30 massimo Buona Quindi questo è il massimo Perfettico Quindi l'abbiamo fatto È il Maximus È il Maximus Quindi io direi che Potremmo Nel prossimo poi episodio Più avanti Ci facciamo tipo Un bel circuito O di roba strana Comunque Ho sbagliato Intendevo Ci facciamo una bella cassettina Dicevo Ci facciamo una bella cassettina Un bel qualcosa Su questo Perché mica lo lasciamo qua Al vuoto A casa Esatto È solo per buttarlo giù adesso Fa il municipio Hai esplorato C'è qualcosa Non c'è niente C'era una cassa a vuoto Ok Perfetto E niente Quindi direi che La farm l'abbiamo fatta Tra l'altro possiamo farne Altre due milioni simili Di farm Così per rendere tutto Più veloce A posto Molto disordinato Come villaggio Però dai Carino Sì decisamente Anche perché c'è la farm Di canale È vero È vero È vero Che ce lo sistema Perché Stiamo buttando Tutto a caso Però va bene così Quindi Io direi che Per oggi Può andare Abbiamo fatto tutto In caso ci scriveranno Dei consigli Qua comunque c'è un mega buco Da tipo il secondo episodio Di un creeper Mai aggiustato Va bene così Mai Mai Quindi vi ringraziamo E vi do l'appuntamento domani Alle due e un quarto Con un nuovo video Non si sa cosa Non si sa come Magari faccio uscire Fall Guys Quello che ho fatto Eh cari Magari faccio uscire Fall Guys Ci sta Ciao Ma sto mini villager Che cacchio Vabbè Le sberla in testa No Bullismo su minori Adesso ti sponda un drago gigante Fia ti immagini È il dra È il dra Satta E io lo uccido E io lo uccido E io lo uccido